Evitato lo sciopero, chiusa la polemica sugli over, ma con il caso Vibonese esploso nelle ultime ore, la certezza è che domani si gioca. In campo alle 18.30 al massimino arriva il Racing Fondi, squadra nata alla fusione tra l'Unicusano e il Racing Roma retrocessi in D e affidato all'ex principe della capitale giallorossa, Giuseppe Giannini. Squadra tosta, è mai un esordio e da prendere sotto gamba. Lucarelli lo sa bene per tutta la settimana, ha martellato i suoi giocatori perché è importante partire bene, ritrovare soprattutto il feeling con il pubblico, un aspetto che anche Marco Biagianti ha tenuto a sottolineare. C'è un grandissimo entusiasmo e questo fa piacere, comunque anche essere qua oggi con questa giornata di sole e vedere tanto pubblico che ha risposto è una cosa che fa piacere anche alla squadra, quindi ricucire il rapporto con la tifoseria, con la città può essere un punto di forza per noi. Il massimino come arma in più anche in Coppa Italia, visto che la terza giornata del girone che prevede il derby con l'Acragas è stata spostata a Catania sempre per il mercoledì 29 alle 20.30. Intanto, in attesa della riammissione ufficiale della Vibonese che porterebbe a venti il girone C, il Catania si concentra sull'impegno di domani. La rifinitura inciderà molto nelle scelte dell'allenatore perché Lucarelli deve sciogliere il nodo soprattutto davanti dove Ripa è indietro nella condizione, mentre Pozzebone e Anastasi sono sul piede di partenza ma uno dei due potrebbe affiancare Curiale in attacco. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2 intercambiabile in corsa, magari con un giocatore come Mazzarani o Da Silva a fare il trequartista.